Allora grazie. Vi dico una cosa forse politicamente poco corretta. Per me non è stato facile venire qui oggi. Lo sa Paola che mi ha un po' ingannata perché l'ho convinta di essere stata invitata per ascoltare. E quando poi, l'ho fatto volentieri perché per me è un onore veramente ascoltare i relatori e crescere in questo senso. Io sono un medico che studia da 40 anni e che spera di continuare a studiare ancora per molto. Poi quando mi ha detto dammi un titolo lì ho vacillato un po' perché non avevo capito. La cosa era andata e quindi purtroppo dovrete sopportarmi per qualche minuto. Allora vi dico la verità ho avuto difficoltà perché io non sono un ricercatore, non sono un neurologo, non sono uno psichiatra, non sono un educatore. Tra l'altro sono una pediatra ma non sono anche pediatra organizzata nel senso che io lavoro in una struttura pubblica ma non come pediatra. Sono una pediatra libera. Quindi diciamo che ho avuto difficoltà ad accettare questo invito però poi ho pensato a Sofia, Marco, Francesco, Giovanni, Simone. Collega non faccia così perché ho dormito poco stanotte quindi non faccia così altrimenti il mio parasimpatico è già partito e allora e quindi ho detto va bene vado per loro. Allora mi dispiace che il dottor Cozzolino ci ha dovuto così insomma ha fatto questa toccata e fuga perché io mi riallaccio sicuramente a quello che ha detto lui. Il core di questo discorso sull'autismo è la patogenesi. Per questo io non volevo venire perché la patogenesi non è ancora chiara. Se fossi stata invitata a parlare che so di asma piuttosto che di allergie piuttosto di farincotonsilliti, streptococchio, cosa del genere, ma anche patologie più complesse ma con una patogenesi definita e quindi con un approccio terapeutico definito sarei stata più tranquilla. In questo caso la patogenesi non è ancora definita, ci sono delle ipotesi, tante ipotesi. C'è tanta confusione però io dico c'è tanta confusione perché pensiamo, siamo esseri pensanti e perché vogliamo crescere. Però poi ripeto, ripensate a questi bimbi, ho visto che da qualche anno a questa parte abbiamo delle possibilità terapeutiche molto molto più efficaci rispetto ad anni fa e quindi ho visto tanti progressi in questi bambini e anche la nebbia del discorso patogenetico piano piano si sta diradando e spero che nel giro di poco tempo si possa arrivare ad una collocazione più organicistica. Allora sicuramente l'autismo è una patologia complessa, è una patologia complessa che ha bisogno di un approccio olistico sistemico e il pediatra ha un grande privilegio in tutto questo. Il pediatra è la prima persona che non appartiene alla famiglia a venire a contatto con questi bambini. Il pediatra entra a contatto con questi bambini da subito, entra a contatto con i bambini, entra a contatto con le famiglie da subito, respira il bambino da subito, respira l'ambito familiare da subito, lo osserva dai primi giorni di vita e inizia ad avere dei sospetti diagnostici che a volte non riesce neanche a confessare a se stesso all'inizio e poi ritrova nello sguardo dei genitori quello che per lui è stato un iniziale sospetto diagnostico e con i genitori inizia un percorso che è lungo e difficile, non possiamo negarlo. È un grande onore questo, è un grande peso, è un grande privilegio. I primi mille giorni sono già cambiati perché pare che dagli ultimi studi la plasticità di un bambino arriva ai primi sette anni di vita, certo non con la risposta che abbiamo nei primi mille giorni, nei primi due anni pare addirittura adesso qualcuno dice anche nei primi 18 mesi, ma sicuramente abbiamo tanto da fare nei primi sette anni di vita e abbiamo tanto da fare nei nove mesi di gestazione e nei quindici mesi antecedenti la gestazione stessa. Quindi il pediatra si trova a dover gestire questo periodo delicatissimo sia di approccio al bambino nato nei primi quindi sette anni, dico io ho già corretto il titolo di età, ma spesso siccome il pediatra entra nell'ambito familiare si trova a gestire il discorso anche delle gravidanze future delle mamme, quindi dei nove mesi di gestazione e dei quindici mesi antecedenti questa gestazione. Cosa possiamo fare? Cosa può fare un pediatra? raccogliere tutto quello che viene dalla scienza, studiare e aggiornarsi su tutto quello che è stato pubblicato. C'è tanto, c'è tanto, sicuramente non definitivo perché non siamo arrivati ad una patogenesi precisissima. Però non possiamo fermarci a questo. Dobbiamo andare avanti su quello che oggi ci dice la ricerca e cercare di risolvere la sintomatologia di alcune situazioni. Perché comunque il bambino autistico è un bambino come tutti gli altri. È un bambino che si ammala, è un bambino che ha dei sintomi specifici e ogni sintomo deve essere aiutato corretto in un certo modo. Vi dico, io ho iniziato ad avere dei risultati terapeutici quando ho iniziato a pensare all'autismo come una patologia complessa, come tante altre patologie complesse che noi incontriamo. In particolare ho iniziato a collocarlo nella parte destra della tavola delle patologie. Io da 15 anni mi occupo anche di medicina fisiologica di regolazione. In quest'ambito noi usiamo inquadrare le patologie fra patologie più semplici, di più semplice risoluzione, acute diciamo, che sono nella parte, diciamo, noi abbiamo, facciamo riferimento a una tavola che divide le patologie da patologie di sinistra e patologie centrali e patologie di destra. Le patologie di destra sono quelle degenerative cronicizzate e vanno, diciamo, affrontate in un modo diverso rispetto alla patologia acuta che possiamo avere nell'altra parte della tavola. Vi assicuro che ho avuto dei risultati veramente importanti quando ho iniziato a considerare l'autismo come una delle tante patologie difficili, patologie di destra, che però ha dei momenti di acuto e quindi momenti che vanno affrontati anche come una patologia in acuto. Perché spesso l'atteggiamento del pediatra di fronte a questi bambini, così come di fronte a bambini che hanno delle patologie complesse di altro tipo, per esempio una cardiopatia congenita importante, è quella di sospendere il giudizio, la terapia e l'approccio e rimandare il tutto allo specialista di competenza. E le famiglie si trovano un po' disorientate in questo perché lo specialista di competenza è importantissimo ma a volte è lontano, è difficile da raggiungere e chiaramente non può prendersi cura del bambino in ogni sua problematica. Il pediatra deve essere presente sempre nella vita di questi bambini, come è presente sempre nella vita di tutti i bambini che li sono affidati. Non deve aver paura di affrontare le patologie né nelle manifestazioni più acute né nella loro base proprio cronica di patologia complessa come l'autismo. Allora, cosa possiamo fare? Cercare di ascoltare quello che gli scienziati e i ricercatori ci dicono. Le ipotesi sono tante, io non mi addentrerò in questo perché ci sono dei colleghi che chiaramente parleranno in maniera molto più competente perché è il loro campo di ricercatori, però così ero stimolata dall'ultima pubblicazione ricerca che è stata fatta all'Aiola in California, dove un gruppo di ricercatori è riuscito, insomma lavorando su delle cellule della pelle di alcuni soggetti autistici e confrontandoli con le cellule della pelle di soggetti non autistici, a tornare indietro nel processo della stadiazione delle cellule fino alla cellula pluripotente staminale. Arrivati a questo, questo è stato pubblicato ad agosto del 2018, quindi uno studio forse uno dei più recenti. Una volta che queste cellule staminali pluripotenti poi sono state riportate piano piano alla differenziazione, si è visto che ad uno stadio specifico di questa differenziazione, cioè quando la cellula pluripotente si è differenziata in cellula neuronale pluripotente, succedeva qualcosa di diverso nei campioni prelevati dai bambini autistici rispetto a quelli di persone non autistiche. Cosa succedeva? Una cosa che è un po' ribaltato quello che si era visto finora e che a volte evidenziava delle connessioni non sviluppate normalmente. si è visto che invece queste cellule staminali, neuronali, improvvisamente acceleravano la loro differenziazione. È come se creassero una rete più connessa stranamente rispetto a quella dei soggetti non autistici. Questo eccesso di funzionalità non si è riscontrata poi nelle differenziazioni successive. Cioè quando, sempre nell'ambito di questa ricerca, hanno saltato questo processo secondario e sono passati alla differenziazione proprio del neurone, il tutto rientrava nella normalità. Cioè le cellule dei soggetti autistici si comportavano assolutamente allo stesso modo rispetto agli altri. Qual è l'importanza di questo studio? È che si è capito forse, o si è iniziato a capire, qual è il punto preciso in cui succede qualcosa di diverso. è una scoperta secondo me importantissima perché mette insieme tutte quelle situazioni che finora erano state sospese. Il dottor Cozzolino ci ha parlato dell'interessamento dei vari sistemi centrali. Il soggetto autistico non ha un danno in una zona specifica del sistema nervoso centrale. viene ad essere interessato la zona perifrontale, la zona frontale, la zona occipitale, il sistema limbico, il sistema autonomo, l'insula. Tutto viene interessato in questi soggetti. C'è un problema di connessioni, c'è un problema di comunicazione chimica, c'è un problema di neurotrasmettitori, c'è un problema sistemico. Ma questo si è capito finalmente. C'è un problema plurigenico. Dagli ultimi studi si è visto che non è un gene solo, ma sono più geni che possono essere alterati. Ma l'alterazione di questi geni pare che resterebbe silente fino a quando un'irritazione ambientale epigenetica non va a slaterizzare questa alterazione di questi plurigeni. Queste interferenze ambientali epigenetiche iniziano già dall'utero, iniziano già dai nove mesi dentro all'utero della mamma e pare che iniziano già da quindici mesi prima del concepimento nell'ambiente che poi si preparerà ad ospitare questo bambino. Quindi è un sistema veramente complesso e questo studio che vi portavo il più recente di La Giola a California, secondo me, è molto significativo perché inizia a mettere una base, come diceva il dottor Cozzolino, proprio un inizio di base su quello che poi forse è il momento specifico di un inizio di cambiamento diverso. Allora, a me ha molto colpito questo discorso che queste cellule in realtà non diminuiscono la loro attività, ma l'aumentano. e se vogliamo, clinicamente, mi corrisponde a quella che è stata la descrizione del dottor Cozzolino, cioè un aumento dell'attività simpatica, una non regolazione, un up regulation, non una down regulation, come si poteva pensare fino a qualche tempo fa. Quindi un eccesso di connessioni che avvengono esattamente in quel momento. E' come se, c'è un'immagine, poi ci arriveremo poco, più tardi, un'immagine che ho rubato ad un preziosissimo collega pediatra, il dottor Supino, che si occupa da anni di queste problematiche. E' come se in una foresta perdessimo quelle strade che comunque ci aiutano a capire la direzione dove andare. E' una foresta intricata, si forma una foresta intricata in quel momento specifico, nel momento in cui, ripeto, le cellule staminali totipotenti si differenziano in cellule staminali neuronali. Altri studi che sono stati pubblicati, e abbastanza recentemente, perché di studi ce ne sono tantissimi, quindi ci fermiamo a quelli più recenti, riguardano, per esempio, sono stati fatti in maniera molto dettagliata in Svezia, e riguardano il riscontro di una carenza netta di vitamina D nei bambini autistici. Hanno studiato dei gruppi di fratelli, addirittura anche gemelli, e hanno trovato che questi ricercatori svedesi, è stato pubblicato sull'Anse et to Submed nel 2017, mi sembra poi ripreso più volte, e hanno trovato che tutti i soggetti che poi sviluppavano una sindrome dello spettro avevano una carenza di vitamina D già nella vita endoterina. E quindi ci riagliacciamo anche qui a questa importanza della prevenzione già dall'utero materno, se non prima. Un altro lavoro molto interessante è quello che hanno fatto su alcuni bambini, somministrando delle sostanze antiossidanti potenti, tipo l'estratto di brassicacea, l'estratto di cavoli puro, e insomma anche lì hanno avuto delle risposte importanti. Così come hanno avuto delle risposte importanti nella somministrazione di probiotici, sia nella vita fetale precoce, e sia alla mamma prima della gestazione. E qui dovremmo dire tante cose su questo discorso del microbioma, so che ho visto il programma, quindi so che verrà trattato ampiamente, però io come pediatra una piccola nota personale la devo fare. Allora sappiamo tutti che il microbiota è fondamentale, è fondamentale tenere sano il microbiota della mamma, già ripeto dall'inizio della gestazione e anche prima della gestazione. Noi abbiamo più di 100 mila miliardi di batteri, o li chiamiamo batteri per semplicità, ma in realtà non sono solo batteri, sono batteri virus lieviti che ci proteggono, sono la nostra grande difesa. Da quando è stato scoperto questo, si è rivoluzionato il concetto posteriano del nemico da sconviggere, senza fare attenzione all'amico da proteggere. Ormai lo sanno tutti, lo sappiamo tutti, non vi annoio con la storia del microbioma, perché è un argomento molto trattato per fortuna. Ma quello che come pediatra io voglio dire è questo. La teoria è una cosa ormai accertata. Chi ha provato a usare questa terapia, perché si tratta di terapia vera e propria, di rafforzamento delle difese anticorpali con il microbioma, ha avuto dei risultati eccellenti, ma poi nella pratica purtroppo si fa poco, anzi si fa il contrario di quello che si dovrebbe fare. Io personalmente, per esempio, sono molto perplessa riguardo ai tamponi che si fanno di routine a tutte le donne in gravidanza, perché fare questi tamponi, ormai si fanno da alcuni anni, da 5-6 anni, significa quasi sempre trovare una positività laboratoristica non clinica. E basta avere questa positività, perché poi bisogna vedere anche questi tamponi come vengono eseguiti, dove vengono eseguiti, eccetera, significa riempire la mamma di antibiotici. Allora, l'antibiotico, ormai è stato visto che una settimana di antibiotico ti distrugge il microbiome, per rimetterlo a posto ci vogliono 24 mesi. Quindi trattare di base tutte le donne che devono partorire con queste terapie, insomma, a me personalmente come pediatra mi lascia perplessa, perché io mi trovo poi a dover affrontare da subito un problema di dismicrobismo. E questa è solo una delle tante cose a cui bisogna fare attenzione. Bisogna fare attenzione, ripeto, a questo ritmo circadiano, l'ha detto in maniera eccellente il dottor Cozzolino, noi ci troviamo in una situazione di acidosi e alcalosi. Come faccio qui, scusi? Vi chiedo scusa per la mia impreparazione tecnica. Ok, ecco. Do qui? La freccetta, perfetto. Benissimo, meglio la freccetta. Allora, noi sappiamo che ormai, ci hanno vinto il Nobel per la medicina l'anno scorso, questi tre ricercatori che hanno rispolverato questo concetto della cronobiologia, sappiamo che siamo determinati da questa pulsatilità di vita, come ha detto il dottor Cozzolino. Niente è statico nella vita. Noi abbiamo un ritmo circadiano che ci governa e che va rispettato. Questo ritmo circadiano noi ce lo portiamo da 200.000 anni fa. L'uomo erectus, che è comparso solo 200.000 anni fa sulla vita, sulla Terra, aveva una, diciamo, una costituzione fenotipica specifica per le sue attività che erano prevalentemente diurne. E siccome sono passati solo 200.000 anni, solo 200.000 anni, noi oggi, da un punto di vista cellulare, siamo ancora lì. Quindi dalle 3 la mattina alle 15 del pomeriggio noi ci troviamo in una situazione di acidosi metabolica perché dobbiamo e possiamo produrre. Ci troviamo in una prevalenza TH1, ci troviamo in una situazione di prevalenza del simpatico e dalle 15 in poi invece cambia tutto. Dalle 15 in poi aumenta il tono parasimpatico, passiamo ad una situazione di alcalosi metabolica e cellulare e abbiamo un'accentuazione di una prevalenza dei linfociti TH2. Questo ci piaccia o non ci piaccia è il nostro genotipo e come siamo ancora oggi perché 200.000 anni non possono bastare per cambiare sono pochi per andare avanti con l'evoluzione. però come stile di vita noi abbiamo rivoluzionato tutto e l'abbiamo rivoluzionato da pochissimo, da 100 anni a questa parte. Quindi lo stile di vita che conduciamo è assolutamente non corrispondente a quello che è il nostro la nostra predisposizione, il nostro ambiente corpo. Allora, cosa dobbiamo dire alle mamme, per esempio, che vogliono che sia, insomma sì sì perfetto, grazie grazie, grazie perfetto benissimo grazie io intanto vado avanti perché sono tante le cose da dire allora, per esempio riguarda questo pensiamo che negli ultimi 40 anni l'esposizione alla luce è aumentata in una maniera incredibile la nostra melatonina viene prodotta poco io mi arrabbio molto con le mamme quando vedo le lucette vicino al lettino del neonato perché il bambino non deve aver paura del buio quella lucetta secondo me è assolutamente disturbante perché già insomma non abbiamo più il buio già abbiamo ridotto tantissimo le ore di sonno la melatonina è indispensabile per il rispetto di questo ritmo circadiano e basta quella lucetta per disturbare questo sistema delicatissimo la melatonina è stata trovata per esempio recentemente anche nei follicoli quindi nei follicoli proprio nei follicoli ovarici e insomma io personalmente ho seguito una trentina di ragazzine per esempio con la sindrome dell'ovaio policistico e anche il trattamento con la sola melatonina data per sei mesi spesso ha risolto la clinica e anche la proprio la diciamo l'alterazione proprio sia ormonale che proprio la tendenza alla sindrome dismetabolica di queste bambine è stato fatto uno studio molto importante al Gemelli a Roma e soltanto il trattamento per sei mesi di melatonina è risolto completamente la sindrome dell'ovaio policistico in queste giovani ragazze quindi la melatonina è fondamentale disturbarla e sicuramente disturbare la produzione di melatonina sicuramente è un'altra cosa a cui insomma dobbiamo stare attenti ecco dobbiamo un altro suggerimento da dare a queste mamme pronto no a posto sì allora quindi la condizione di wellness deriva dal mantenimento del corretto equilibrio fisiologico tra le due fasi l'orologio biologico è stato più volte pubblicato che anche l'evoluzione del cervello ne è assolutamente influenzata hanno scoperto per esempio questo gene clock che svolge una funzione del tutto inaspettata regola l'attività di un insieme di geni importanti per l'evoluzione del cervello legate ai disturbi cognitivi che hanno un ruolo nel processo mediante i quali i neuroni viaggiano per raggiungere la loro sede definitiva andiamo avanti grazie ancora ancora grazie ecco qui allora vi dicevo che io ho iniziato a guardare con occhi diversi alla possibilità di intervenire terapeuticamente su questi bambini su questi soggetti quando ho messo al centro questo sistema di controllo omeostatico come faccio con tutte le altre patologie noi abbiamo un sistema nervoso centrale un sistema neurovegetativo un sistema endocrino un sistema immunitario che sono assolutamente connessi fra di loro e quindi non possiamo fare a meno di trattare questi bambini come trattiamo gli altri pensando alla PNEI prego grazie PNEI il sistema psico-neuroendocrino immunitario sul finire del secolo endocrinologi neurologi psicologi fisiologi immunologi hanno indagato le relazioni che interconnettono l'organismo umano demolendo i pilastri del paradigma riduzionista meccanicista gli esili sono appunto la PNEI la PNEI l'epigenetica avanti ecco no scusi un altro sì indietro ma volevo parlare di del dottor Selye che già nel 1936 aveva capito che la reazione stress è indipendente dalla natura dello stimolo prego e questa è la reazione biologica allo stress questo organismo colpito dallo stress risponde male poi tende e cerca di risollevarsi e poi crolla definitivamente quando lo stress persiste è stato visto ultimamente che lo stress è contagioso e modifica il cervello allora il dottor Cozzolina ha parlato di bambini abusati per esempio è stato pubblicato che addirittura i figli di persone abusate avevano una diciamo una un rischio ecco di sviluppare disturbi dello spettro autistico maggiore rispetto a chi non aveva avuto queste esperienze negative e da questo studio è emerso pubblicato all'università di Calgary pubblicato su neuroscienze a marzo 2018 ripeto io ho cercato di portarvi più recenti perché altrimenti ci perdiamo davvero hanno riscontrato che dei topolini messi nella stessa gabbia tendevano ad avere la stessa diciamo a manifestare segni di stress sia clinici che anche chimici quando uno dei loro compagni veniva sottoposto a una situazione stressante anche se loro non erano stati direttamente non avevano subito direttamente il trauma stressogeno quindi attenzione al partner che vi scegliete allora sì grazie sì va bene questo qui ci dovremmo stare anni cioè ci dovremmo stare anni qui comunque nel 1980 Giapa Sedosky aveva proprio trovato questo collegamento biologico bidirezionale tra cervello stress e immunità andiamo avanti grazie ecco questo diciamo mi affascina molto questa immagine nell'85 Blalock ha scoperto che i linfociti quindi le cellule della difesa hanno recettori per ormoni e neurotrasmettitori cerebrali e li producono a loro volta quindi ancora una volta sistema complesso non si può parlare per settorialità il sistema immunologico che ha dei recettori per ormoni e neurotrasmettitori cerebrali basterebbe anche solo questo per capire che è tutto connesso sì qui poi ci sono tutti i lavori che mettono in relazione l'ippocampo eccetera non parliamo solo naturalmente di autismo ma tutte le patologie maggiori le patologie complesse le patologie di destra hanno questa connessione sappiamo tutti che depressione cortisolo catecolamine alterazione parete interna dei vasi ci dà dei problemi cardiopatici il colesterolo non c'entra più niente questo ormai si sa e l'infiammazione la microinfiammazione che dà problemi andiamo avanti apnea andiamo avanti ecco lo stress quello che fa lo stress va a lavorare sulle gonadi ipotalamo ipofisi ghiandola pineale pineale melatonina ghiandola surrenale sistema immunitario sistema neurovegetativo e tiroide andiamo avanti network e pnei andiamo avanti andiamo avanti perché c'è tanto ancora tanto da dire andiamo avanti 5 minuti come si fa allora la conversazione galante la conversazione galante di tutto il nostro organismo abbiamo pochissimo tempo veramente qua bisognerebbe parlare per ore i miei studenti oggi ce ne sono tanti sanno che quando io parto è difficile trattenermi saltiamo sempre la pausa la pausa durante la lezione ma insomma è difficile andiamo avanti la cosa che vi volevo sottolineare è questa sì il messaggio è questo dobbiamo lavorare tutti insieme dobbiamo lavorare da prima che il bambino venga concepito dobbiamo dare delle indicazioni precise ai futuri genitori e anche quando il bambino c'è non ci dobbiamo arrendere dobbiamo cambiare lo stile di vita perché i risultati ci sono e da un punto di vista terapeutico noi clinici abbiamo delle grosse possibilità quando andiamo a lavorare sui sistemi di regolazione io personalmente ho avuto veramente dei risultati eccellenti oltre che con il cambiamento dell'alimentazione la regolazione dei sistemi dei ritmi di vita ho avuto dei risultati eccellenti con la collaborazione dei colleghi chiaramente osteopati con i quali lavoro ha stretto proprio ormai siamo diventati un corpo unico con i psicoterapeuti e con tutti i dietologi nutrizionisti e tutti io personalmente avanti avanti ho avuto degli ottimi risultati quando ho usato dei prodotti che mi vanno a regolare il sistema di autodifesa del soggetto questa cosa la devo dire per esempio un altro studio importantissimo è stato fatto sui mitocondri di questi soggetti pare che la parte del mitocondrio deputata all'antiossidazione allora il mitocondrio lo dico per chi non è medico per ogni nostra cellula noi abbiamo da 200 a 300 mitocondri i mitocondri sono fondamentali per la vita perché lì si forma la respirazione cellulare il ciclo il ciclo di Krebs la fosforilazione ossidativa senza mitocondri non si vive noi respiriamo grazie ai mitocondri produciamo energia grazie ai mitocondri ma questa attività di produzione di ATP è un'attività assolutamente ossidante allora il mitocondrio per autoproteggersi in un'altra parte del sé produce una marea di molecole antiossidanti è stato visto che nei soggetti autistici la parte del mitocondrio deputata alla produzione di sostanze antiossidanti non funziona bene allora quando noi andiamo con prodotti che vanno a supportare la fosforilazione ossidativa il ciclo di Krebs abbiamo dei risultati eccellenti da un punto di vista clinico e naturalmente io personalmente uso prodotti a basso dosaggio lodo sì grazie perché a basso dosaggio due parole devo spendere su questo la microdose che cosa è la microdose la microdose è l'uso di sostanze con le concentrazioni che diciamo la cellula umana usa per produrle essa stessa le nostre cellule producono neurotrasmettitori non in milligrammi o in grammi ma in picogrammi fentogrammi e nanogrammi noi con le interleuchine gli interferoni i BDNF le neurotrofine a dosaggi non ponderali ma secondo la produzione cellulare riusciamo ad arrivare al recettore giusto con il dosaggio giusto il recettore prende il messaggio che deve prendere quando non ne ha bisogno non 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 accetta questo messaggio quindi con i nostri farmaci a basso dosaggio noi andiamo a sussurrare delle situazioni alla cellula vi assicuro che abbiamo veramente degli ottimi dosaggi degli ottimi riscontri io personalmente ho avuto dei bambini che hanno iniziato a parlare a 5-6 anni per questo dicevo andiamo oltre i primi mille giorni di età 5-6 anni con queste terapie con il supporto degli osteopati e di tutti dei nutrizionisti eccetera ho avuto dei bambini che veramente si sono sbloccati quasi completamente è una strada in salita una strada tutta da percorrere ma vi assicuro che non c'è bambino che non sia migliorato e anche di tanto no andiamo avanti un altro pochino sì grazie ancora 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 veloce 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 perché giustamente dobbiamo chiudere ancora ecco vedete questa è la concentrazione fisiologica sotto c'è la patologia sopra c'è la patologia andiamo avanti andiamo 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 ancora ancora per favore una cosa volevo dire riguardo alla febbre per esempio allora è assolutamente vero clinicamente che questi bambini quando hanno la febbre migliorano stanno benissimo perché perché la febbre è un'infiammazione allora se noi consideriamo questa patologia così come secondo me deve essere considerata una patologia di destra le patologie estremizzate cronicizzate non hanno più la reattività sono patologie dove non c'è più la risposta dell'organismo cioè una cronicizzazione allora la febbre ristimola una risposta attraverso le linfochine le citochine attraverso tutti i fattori di protezione allora l'infiammazione cronica latente è il primo killer del nostro corpo ma un'infiammazione acuta breve l'attacco difesa è assolutamente indispensabile per la nostra vita perché ci aiuta a difenderci io sono convinta che in questi bambini la febbre faccia proprio questo faccia riscattare la difesa che loro per una situazione di up down regolatorio per questa situazione di neuroni super super connessi troppo che non trovano la strada non riescono a difendersi da certe situazioni e la febbre in questo senso è un ritorno a quell'infiammazione buona che poi porta alla guarigione certo un momento transitorio però ecco questo ci fa capire che in effetti l'uso di queste di queste di queste medicine che che servono proprio a aiutare il corpo alla reazione potrà darci grossi risultati dobbiamo finire qui io parlerei per altre per altri tre mesi perché vi assicuro che c'è tanto da dire però vi lascio grazie grazie sono riuscita a dire veramente pochissimo però vi lascio con una frase questo me lo deve permettere che non è mia è la frase di Marco un ragazzo di 28 anni con la sindrome con l'affetto da insomma da una da un atismo abbastanza importante lui non ha raggiunto mai competenze comunicative ed è il figlio di un'infermiera che lavora insieme a me l'altro ieri lui no l'altro ieri qualche tempo fa in realtà lui ha mandato un messaggio alla mamma sul cellulare perché quando la mamma ritarda lui manda sempre questi messaggi non ha mai parlato questo ragazzo ha 28 anni ma comunica attraverso il computer attraverso i messaggi la mamma era seduta vicino a me eravamo in riunione e io vedevo il messaggio mamma quando torni e subito dopo dopo una pausa il messaggio è continuato sul cellulare questo lo dedico a tutte le mamme di questi bambini mamma ricordati che tu sei per me come la commedia di Dante Alighieri due punti divina grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti